Musica Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Iniziamo con l'economia perché domani ci sarà l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della legge di stabilità. Dopo molte difficoltà e mediazioni, service tax e cuneo fiscale sono i pilassi del provvedimento. Il servizio. Domani ci sarà l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della legge di stabilità, giunta ormai al suo compimento attraverso non poche mediazioni e difficoltà. Ultima delle quali il balletto di voci e anticipazioni che ha fatto irritare non poco il Premier Enrico Letta. Perno del maxiprovvedimento la service tax che a partire da gennaio 2014 includerà IMU e Tarsu. Tra i punti qualificanti, secondo le voci trapelate, l'aliquota massima fissata a 3 per mille altrimenti 30 centesimi al metro quadrato. L'impegno promesso dalla maggioranza già esplicitato nel decreto di abolizione della prima rata IMU è che la somma delle imposte tra patrimonio, servizi e rifiuti non superi l'attuale tetto massimo dell'IMU, ossia il 7,6 per mille per le prime case e il 10,6 per tutte le altre. La legge di stabilità che l'intero Paese attende con una certa apprensione mista a speranza include altri provvedimenti vitali per le aziende e le famiglie. Tra questi la struttura del cuneo fiscale in favore delle aziende, meno 5 miliardi nel 2014 altrettanti per il biennio successivo, che si auspica possa avere ripercussioni positive nelle buste paga oltre a dare una robusta boccata d'ossigeno alle imprese. Quest'ultimo provvedimento indicato non a pioggia ma a beneficio delle aziende che assumono e investono è ritenuto il cuore stesso della manovra complessiva, la quale manovra naturalmente comprende svariate altre declinazioni. A partire da una nuova aliquota IVA al 7% a possibili importanti tagli alla sanità. L'inviso aumento dal 21 al 22% dell'IVA record assoluto in Eurolandia potrebbe rientrare nell'ambito di una rivisitazione delle attuali tre aliquote, 4, 10 e 22%, con la creazione di una quarta aliquota al 7%, nella quale far confluire alcuni beni al 4 e al 10%. Questi sono solo alcuni punti dell'enorme provvedimento in arrivo. Basti ricordare, per esempio, tutta la parte relativa alle privatizzazioni degli immobili pubblici e la spending review, che tra poco passerà sotto la guida dell'ex chief economist fiscale del Fondo Monetario Internazionale Carlo Cottarelli. Di certo non mancheranno polemiche discussioni rispetto a una legge di stabilità stretta tra mille vincoli e altre tante aspettative, di un Paese ormai allo stremo delle forze. E passiamo alla politica. Una legge su amnistia e indulto dovrebbe essere applicata a tutti, anche a Berlusconi. Così il ministro per le riforme, Gaetano Quagliariello, ha commentato le parole del ministro Cancellieri di qualche giorno fa. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio. Una legge deve essere applicata a tutti i cittadini. Così il ministro per le riforme, Gaetano Quagliariello, in un'intervista, ha commentato le parole del ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, secondo la quale eventuali provvedimenti di clemenza non saranno applicati a Berlusconi. Se ci sarà una legge su amnistia e indulto dovrà essere applicata a tutti, Berlusconi compreso, ha sottolineato Quagliariello. Credo che Cancellieri sia stata fraintesa, le sue parole sono state malinterpretate, ha detto. Penso che nessuno possa ritenere che una legge possa non essere applicata a un solo cittadino. Il ministro nell'intervista ha spiegato anche gli obiettivi del centrodestra. Vittoria nelle elezioni del 2015, anche con due partiti diversi. Un grande centrodestra che riesca a vincere nel 2015, anche diviso. Meglio due partiti che un litigio permanente. E sulla persona che potrebbe essere alla guida di questo partito, l'unico leader del centrodestra che può convivere con Berlusconi è Alfano, ma se se lo conquista dall'esterno. Ha spiegato Quagliariello. Penso che i due non siano incompatibili. Ce lo ha insegnato Berlusconi. Le battaglie non le ha mai fatte dentro il partito. Il centrodestra è diventato maggioritario fuori. I contrasti interni al PDL avrebbero una spiegazione, secondo il ministro. Nel partito ci sono ottimi rapporti personali, ha detto. Ma è tanto tempo che non si parla di politica, perché c'è incomunicabilità. E questa è venuta fuori nell'ultimo periodo. Fama, Hansen e Schiller sono i tre vincitori del premio Nobel per l'economia. I tre statunitensi sono stati premiati per il loro lavoro sugli andamenti finanziari, in particolare per le loro analisi empiriche sui prezzi degli asset e servizio. Un Nobel per tre è quello assegnato dall'Accademia di Svezia per l'economia e che è andato a tre studiosi il cui lavoro si è distinto sull'andamento dei mercati finanziari con particolare riferimento all'analisi empirica dei prezzi degli asset. I tre Nobel sono gli statunitensi Eugene Fama e Lars Peter Hansen dell'Università di Chicago. Il partito nazionalista Loran Lopez ha sconfitto la candidata del centrodestra, Caterine Del Zera, raccogliendo il 53,9 dei voti. I socialisti del presidente François Hollande avevano invitato a votare per la candidata dell'OMP. Oltre alla metà dei 20 diritti al voto non si è recata le urne e ai seggi sono recati circa 9.000 elettori. La Francia è composta da oltre 100 dipartimenti e grossomodo 5 dipartimenti compongono una regione. Le elezioni sono tenute precisamente a Brignol, una piccola città della Provenza. I sondaggi mostrano che il fronte nazionale di Marine Le Pen, partito nazionalista, euroscettico e anti-immigrati, sta guadrando terreno mentre si avvicinano le elezioni europee in programma per il 2014. In Francia le elezioni locali previste per il prossimo marzo. La leader del fronte nazionale Marine Le Pen, all'Altrevisione francese, ha dichiarato che i risultati mostrano un real desiderio di cambiamento da parte dei francesi e che il suo partito potrebbe vincere centinaia, forse un migliaio di seggi nelle elezioni locali di marzo. Lo scorso anno la Le Pen ha ottenuto il 17,9% dei voti al primo turno delle presidenziali, poi vinte da Hollande. Il fronte nazionale detiene attualmente decine di seggi a livello locale e due nel Parlamento nazionale. E apriamo la nostra pagina regionale. Sabato mattina in piazza Beccaria si svolgeranno i funerali di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa da Langdrangheta. Oggi a Palazzo Marino il sindaco Pisa Pia e il presidente di Libera Don Ciotti hanno presentato le iniziative della città per i funerali organizzati dalla figlia Denise. Ricordiamo Lea uccisa per il suo coraggio. Con questo messaggio per Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa a Milano, sua figlia Denise vuole ricordare la donna che si ribellò all'Landrangheta organizzando il suo funerale sabato in piazza Beccaria a Milano, la città ora impegnata nella lotta alla criminalità organizzata che fece diventare Lea Garofalo testimone di giustizia. E' città nella quale la donna perse la vita. E' importante perché conferma quello che diciamo da sempre che questa amministrazione nella lotta alla mafia, nella lotta alle violenze in genere è impegnata concretamente, non solo teoricamente ma con atti concreti. Questo ha permesso anche al Tribunale di dire effettivamente il territorio milanese. L'amministrazione ha avuto dei danni da un delitto così grave ma credo che il riconoscimento sia proprio rispetto alla concretezza dell'intervento dell'amministrazione nella lotta alla mafia, nella lotta alla violenza di genere. E' Denise che lo chiede, una ragazza che è rimasta sola, che ha perso la sua mamma, che ha avuto il coraggio di rompere l'omertà, il silenzio mafioso, ha denunciato gli autori, che ha avuto il suo padre, la parte della sua famiglia che gli hanno ucciso la sua cara mamma. E' lei che ci invita, ci invita tutti. E dopo quattro anni noi la vogliamo accompagnare, Lea, lo so. Denise ha avuto anche un segnalibro proprio per invitare la gente a non dimenticarci il potere dei segni, dei segni positivi contro i segni del potere mafioso e criminale. Segno, Libra, perché Libra vuol dire cultura, ha bisogno di conoscenza, conoscere per essere persone più responsabili. Questa è una città con tanta gente meravigliosa, una città che ha gli anticorpi per rispondere alle presenze criminali e mafiose, dove molti uomini e donne sono fortemente impegnati. Denise ha scelto questa città per separare la sua mamma. E' stato arrestato al supermercato Iper in zona Voghera uno spacciatore. Il giovane era su un'auto guidata da un complice che ha riuscito a fuggire. I poliziotti hanno rinvenuto anche il borsello dello spacciatore in cui erano contenuti 1.300 euro, probabile frutto dell'attività di spaccio. Da tempo circolava la voce di un'attività di spaccio nelle zone periferiche di Voghera e alcune vetture sospette erano state notate in tangenziale o in alcuni angoli meno frequentati per gli incontri finalizzati all'accessione della sostanza stupefacente, in particolare nelle ore serali e notturne. Il personale del commissariato di Voghera ha organizzato servizi di appostamento che hanno confermato come alcuni soggetti provenienti dal milanese, utilizzando veicoli sempre diversi, prendevano contatti locali per accessione delle dosi di richieste. Gli agenti hanno appurato che si trattava di spacciatori principalmente di ernia magrebina che sono stati in passato anche intercettati.